Musica Parliamo di protezione civile, parliamo di volontariato all'interno della protezione civile. La protezione civile è uno strumento che serve a mitigare e a prevenire le catastrofi e tutte le emergenze che possono occorrere all'interno di un territorio. Il nostro territorio è particolarmente esposto ai terremoti in quanto siamo zona sismica ad elevato rischio, siamo anche zona alluvionale, quindi è zona anche ricca di boschi che possono rappresentare degli incendi che possono mettere anche a repentaglio la vita dei cittadini. Quindi è importante avere delle strutture, e la protezione civile fa questo, a disposizione del sindaco, dell'amministrazione dei cittadini per mettere in sicurezza il territorio. Stiamo parlando di servizio di protezione civile associato tra 14 comuni del territorio e sono esattamente i comuni delle aree interne, che condivideranno nei prossimi giorni questo servizio, in modo tale che possa essere svolto nel migliore dei modi e con strumenti e risorse adeguate a un territorio come il nostro. E' chiaro che un piccolo comune da solo non può far fronte alle emergenze che spesso in estate, spesso in inverno quando piove molto, spesso quando cade la neve, si affacciano alla responsabilità del sindaco. Con l'aiuto dei volontari, che possono essere in questo caso sono i NERS, l'associazione di volontari autonoma e privata, può essere rappresentata anche dalle associazioni comunali di protezione civile. In questo caso noi abbiamo inteso sottoscrivere un accordo con i NERS affinché diano, nel momento del bisogno, assistenza al nostro territorio. E noi abbiamo concesso a loro una sede, una sede molto valida, molto bella, all'interno della quale c'è la centrale operativa e ci sono praticamente i locali per il parcheggio delle macchine e dei mezzi che servono per la protezione civile. Noi speriamo che questa cosa possa durare a lungo, noi speriamo che possa prendere sempre più piede il volontariato nei nostri territori perché solo così la presenza del volontariato fa sì che parta una specie di contagio civile dove partecipano non solo i volontari ma anche i cittadini. Perché protezione civile significa volontari della protezione civile, sistema della protezione civile regionale, significa anche cittadini del territorio. Per cui auspichiamo veramente che la presenza di questo gruppo possa stimolare il senso civico, il senso della protezione del bene pubblico nella mente di ognuno di noi. Grazie. 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 Grazie.